Un appuntamento importante è l'avvio della campagna di vaccinazione anti-influenzale in Viale Virgilio a Taranto, nella sede della Direzione Generale dell'Asla. Questo appuntamento è importante soprattutto quando siamo in una fase che ci vede un attimino alleggeriti dall'emergenza Covid, però la stagionalità ci impone di invitare tutti i cittadini alla vaccinazione anti-influenzale. Vaccino anti-influenzale contemporaneamente al vaccino anti-Covid-19, un'opportunità. Vaccino anti-influenzale a un braccio, vaccino quarta dose Covid a un altro braccio. Questo non soltanto è una cosa possibile, ma una cosa raccomandata da parte delle autorità sanitarie nazionali, perché addirittura si potenziano l'effetto delle due vaccinazioni. Prevenire le malattie e le loro complicanze, fondamentale dunque la vaccinazione. Le vaccinazioni servono a prevenire la malattia e le loro complicanze, quindi rivolte a tutte le caratterie fragili, servono a prevenire anche e soprattutto le complicanze.